Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come San Giovanni, proposta bollente alla bellissima Soleil Sorge. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme San Giovanni.E' finita già da qualche settimana il programma tanto amato dagli italiani Nonostante ciò pare che alcuni personaggi del programma, non siano scomparsi dal mondo dello spettacolo Parliamo infatti del volto tanto amato dai telespettatori, la bellissima Soleil Sorge che a quanto pare prima di scomparire dalle luci dello spettacolo ha già ricevuto in pochissimo tempo la proposta di opinionista all'interno del programma De La Pupa e Il Secchione Eppure a quanto pare non è stata l'unica proposta ricevuta da Soleil, a sorprendere la bella opinionista del programma è stato proprio San Giovanni, ex concorrente del programma Amici di Maria De Filippi San Giovanni e la proposta Soleil Sorge.La bellissima Soleil Sorge è riuscita ad avere un grande successo grazie alla partecipazione del grande fratello V La giovane infatti ha fin dall'inizio conquistato il cuore di tantissimi telespettatori italiani e non solo Oltre alla proposta di diventare una delle opinioniste all'interno del programma di Barbara D'Urso, Soleil ha ricevuto una bellissima proposta anche da un giovane cantante, parliamo infatto di San Giovanni A quanto pare infatti San Giovanni avrebbe proposto alla bella Soleil di partecipare al nuovo videoclip della sua canzone L'ex allievo della scuola di Amici sta preparando infatti un nuovo singolo da pubblicare sul mercato La giovane infatti dovrebbe interpretare una dolce ragazza ferita d'amore A quanto pare la giovane soprattutto in questo periodo è molto richiesta, sarà la sua bellezza e il suo modo di fare che hanno fatto impazzire tutti La stessa Sonia Bruganelli qualche settimana fa avrebbe detto che la bella influencer sarà l'unica ad avere un seguito nel mondo dello spettacolo Soleil sorge.Eppure alcuni vociferano addirittura che la giovane Soleil sia in attesa di un programma radiofonico, ma al momento non ci sono notizie al riguardo, nemmeno la stessa Soleil si è pronunciata al riguardo Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video